Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi faremo l'unboxing del Fitbit Blades, un prodotto che ormai risale a quasi un anno fa e che però grazie agli sconti del Black Friday me lo sono potuto portare a casa per 130€ il che è un buon prezzo comunque, dato che partiva da 230€ quando è uscito. Iniziamo togliendo la parte superiore della confezione a cui ho già tagliato lo scotch per velocizzare il tutto e appena aperta la confezione ci troviamo davanti a una scatola con apertura magnetica e ha l'orologio, appunto il fitness tracker e un manualetto di istruzioni, il caricatore e basta. Partiamo dal manualetto di istruzioni che è un normalissimo manualetto di istruzioni quindi niente di speciale. Quindi oltre al manualetto di istruzioni troviamo anche un foglietto illustrativo che ci dice dove configurare il nostro Fitbit Blades, cioè in pratica o dall'app da cellulare o dal programma sul computer. Dopodiché passiamo all'alimentatore, cioè al caricatore o non al caricatore, che ha un attacco proprietario. Infatti con questo alimentatore, questo caricatore non avremo una presa micro USB o USB-C ma avremo dei pin, dei pin che andranno ad alimentare il nostro Fitbit Stracker appunto mettendo l'unità principale, cioè quello che poi alla fine è il prodotto dentro questa specie di scatoletta, cornice, fornita di pin. E all'altra estremità del cavo troviamo un semplice connettore USB. Ora passiamo al pezzo forte, quindi al fitness tracker, che è più smartwatch rispetto agli altri Fitbit. Infatti si può anche vedere dalla forma, appunto che rispetto ad altri Fitbit come il Flex 2, che è più appunto una fitness band, questo è più vicino a quello che è uno smartwatch. Accendendolo ci viene il simbolo di Fitbit, il logo di Fitbit e tra poco dovrebbe anche apparire una scritta, cioè un URL per appunto poi andare a configurare il nostro Fitbit che adesso ovviamente non configurerò, questo è solo un unboxing. Il cinturino invece è proprio visto di cinturino che è intercambiabile, io l'ho scelto nero, ma si può prendere in vari colori. E appunto come dicevo prima, l'unità principale è questa, che andrà messa in questo modo nel caricatore. E poi si caricherà. Direi che è tutto, ci vediamo al prossimo video.